I panetti di Ascic, 13 in tutto, ognuno di circa 100 grammi, erano stati nascosti nel vano di alloggiamento del contatore dell'acqua in un casolare disabitato nel quartiere Ballaro di Palermo. Sono stati fiutati dai cani antidroga e sequestrati. L'operazione è stata portata a termine dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che hanno arrestato un palermitano. Sono stati i baschi verdi del gruppo pronto impiego a rimedire in due diverse attività di servizio effettuate a breve distanza l'una dall'altra, oltre i 2,2 kg di Ascic, anche grazie all'ausilio di due unità cinofile in forza reparto. Nel quartiere Ballaro è stato individuato un casolare disabitato, all'interno del quale il fiuto del pastore olandese Anouk ha consentito di scovare 13 panetti di Ascic da circa 100 grammi ciascuno, nascosti dentro il vano destinato all'alloggiamento del contatore idrico. Le fiamme gialle stanno cercando di individuare l'utilizzatore del sito, che da una prima analisi sulle modalità di confezionamento e conservazione sembrerebbero ricondurre ad un grossista della piazza di spaccio. Lo stupefacente una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio oltre i 10.000 euro. La seconda operazione è stata effettuata presso la stazione centrale di Palermo, da sempre crocevia di traffici illeciti. Perquisito un 22enne palermitano è stato trovato in possesso di diverse dosi di Ascic. Accertato che il giovane avesse precedenti per spaccio, la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Qui, sempre con l'ausilio dei canetti droga, sono stati rinvenuti 10 panetti di Ascic, materiale da confezionamento e 23 dosi già pronte per la vendita. Da qui è scattato l'ulteriore arresto.